Buongiorno amici di BackItaliaWeb, buon giovedì, siamo entrati ufficialmente nel 2020, siamo entrati non benissimo perché nelle nostre free pick con cui ci siamo lasciati il 31 di dicembre sulla Premier League, avevamo dato tre giocate e ne abbiamo presa solo una, quella quota più alta, ovvero gol sì tra Manchester City ed Everton, non è entrato l'X2 sul Bournemouth che ne ha presi quattro in caso del West Ham e anche il doppio over del Presidente a 3-0-5 di quota non è entrato, Newcastle e Leicester hanno segnato almeno tre reti, invece in South Henton Tottenham, delusione per gli Spurs che hanno perso 1-0 in trasferta. Anche oggi poco calci in attesa della ripresa dei campionati principali in questo fine settimana, poi all'Epifania arriverà anche la Serie A, domani come sempre al venerdì prepareremo lo studio sui principali campionati di calcio per tutto il weekend e il 6 di gennaio. Nonostante un palinsesto un po' scarno abbiamo comunque selezionato due free pick per voi di Zanardi, trovate il link, trovate il riferimento del minutaggio qui sotto se volete andare direttamente alle free pick. Però abbiamo da parlare un po' del programma che ci aspetta oggi, calcio inglese, basket c'è l'Eurolega, anche basket NBA e poi continuiamo a parlare del college football con i ball, vi daremo anche le prime idee, i primi consigli per le giocate. Iniziamo quindi dal calcio Premier League, Liverpool-Sheffield United, posticipo che chiude questo turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese che come sempre tra Natale e fine anno è impegnatissimo. Dicevamo Liverpool-Sheffield, i Reds stanno dominando il campionato, 18 vittorie, un pareggio e ancora nessuna sconfitta per la squadra di Klopp che ha segnato 47 reti e ne ha subite solo 14. Lo Sheffield sta giocando un'ottima stagione di ritorno in Premier League, al momento è all'ottavo posto in orbita Europa. Di questa partita ne parliamo dopo in free pick. Sempre rimanendo sul calcio e sempre rimanendo in Inghilterra c'è anche un doppio posticipo per la ventisesima giornata di Championship, si inizia con Derby-Barsley, scontro diretto in chiave salvezza e anche Swansea-Charlton, match di metà classifica con i gallesi che in caso di successo potrebbero mettere nel mirino la zona play-off. Noi nel nostro articolo su BetItaliaWeb abbiamo consigliato proprio la vittoria dei padroni di casa che si trova intorno a 1,60 di quota, ma abbiamo utilizzato questa partita anche per la nostra free pick di cui parleremo più tardi. Cambiamo sport, ci spostiamo verso il basket, Eurolega inizia la grande il 2020 con il torneo più importante della pala raccanestro europea, ovvero l'Eurolega si inizia alle 19 con Stella Rossa Bayern e con Zalgiris contro Maccabi Tel Aviv, alle ore 20 toccherà Olympia Kosfenerbace, mentre alle ore 21 si chiuderà con Baskonia Barcellona. Si continua anche domani con l'Europa League in campo anche l'Olimpia Milano che ospita lo Zenit San Pietroburgo. Vi ricordo che per tutti gli studi e le giocate ogni giorno sulla panacanestro italiana ed europea c'è il nostro canale Telegram gratuito, il Presidente Basket con le analisi di Frarì. Passiamo al football americano, college football, continuano i ball, martedì abbiamo dato 10 consigli, abbiamo fatto un 5-5, ieri ne abbiamo dati 8, abbiamo chiuso con un 4-4, vediamo se riusciamo a svoltare del tutto con le due sfide in programma anche oggi, si inizia con Cincinnati Boston College per il Birmingham Bowl, a me piace il meno 7 di Cincinnati, i Birkets favoriti potranno vincere con almeno un touchdown di margine finale contro Boston College, in questa partita consiglio anche l'Under, 55,5 punti. Cincinnati ha segnato 4 Under nelle ultime 5 partite da favorita. Come detto oggi Cincinnati si gioca a meno 7,5, io abbasso la linea al touchdown pieno. Nella notte si gioca anche Tennessee contro Indiana per il Gator Bowl, qui favorisco la vittoria dei Tennessee Volunteers superiori a Indiana, soprattutto difensivamente, Tennessee è una squadra più organizzata rispetto a Indiana, forte anche del 6-1 ATS nelle ultime partite per quanto riguarda le scommesse. In questa partita, anche in questa partita consiglio Under, 53,5 punti totali, visto che parliamo di due buone difese, come detto, Indiana ha sempre segnato Under negli ultimi 5 non-conference game, statistiche in cui anche Tennessee ha segnato 8 Under in 11 partite. Queste sono solo prime idee per tutte le conferme, c'è l'articolo sul sito betitaliaweb.it con anche le analisi complete di queste due sfide e c'è sempre il canale Telegram gratuito, il Presidente Sport USA, potete entrare cliccando al link che trovate qui sotto se non siete già dei nostri. Se volete di più, ovvero ricevere ogni giorno tutte le nostre giocate e i contenuti dei 5 tipster che lavorano su tutti gli sport americani, contattateci per entrare nel canale VIP, con le promozioni speciali di Natale e di Buon Anno, potete entrare anche gratis, contattateci per scoprire come. Parliamo anche di Basket NBA, oggi 9 partite, i big match più interessanti iniziano con Indiana Denver, Indiana è sempre senza Oladipo, c'è anche Brogdon in dubbio, ma qui di recente i Pacers hanno battuto anche Philadelphia, Pacers che hanno un record di 15-3 in casa. Denver ha perso a Houston, oggi è in forse Harris, le prime linee favoriscono leggermente i padroni di casa di Indiana dati a meno 1,5, anche perché i Nuggets sono 0-4 ATS nelle ultime sfide contro i Pacers. Molto interessante anche lo scontro a est tra Miami Heat e Toronto Raptors, Miami ha perso solo una volta in casa, record di 15-1, anche se gli Heat sono reduci dalla sconfitta deludente a Washington. Nell'altra parte Toronto è sempre senza Siakam, Gasol e Powell, oggi i canadesi sono dati a più 5,5 punti di handicap in questa difficile trasferta. Vi dico anche che il 3 dicembre scorso gli Heat vinsero 121-110 in overtime a Toronto. Non è un big match, ma segnalo velocemente anche Chicago Bulls contro Utah Jets, i Jets sono in grande spolvero, 8 vittorie nelle ultime 9, secondo me potrebbero passare anche oggi a Chicago, mi piace Utah a meno 2,5, in questa partita mi piace anche l'under 210,5 punti totali. È una linea non altissima, ma Chicago ha tra le peggiori efficienze offensive della Lega e i Jets invece, lo sappiamo bene, sono tra le migliori difese. Di recente Utah ha lasciato a soli 81 punti i Pistons e vi dico anche che tra Chicago e Utah abbiamo visto 11 under nelle ultime 14 sfide. Molto velocemente qualche news anche su Dallas Mavericks contro Brooklyn Nets, i Mavericks hanno ritrovato Luca Doncic ma oggi è in forse Porzingis. Per quanto riguarda Minnesota Timberwolves Golden State Warriors, ieri Minnesota se l'è giocata contro Milwaukee, anche se alla fine ne ha perso un'altra, ha perso solo di due però. Oggi sono favoriti Timberwolves a meno 3,5 punti di handicap contro Golden State che è senza D'Angelo Russell. Infine Los Angeles Clippers contro Detroit Pistons, i Pistons aprono nettamente sfavoriti, più 11,5 punti di handicap in appoggio allo Staples Center dove i Clippers hanno un record di 14,3. Clippers che oggi dovrebbero ritrovare Lou Williams mentre per Detroit dovrebbe rimanere ancora fuori Blake Griffin. Anche qui per tutte le analisi e le conferme articolo su betitaliaweb.it e tutti gli aggiornamenti nel nostro canale gratuito di Telegram il Presidente Sport USA. Se poi volete entrare nel nostro canale VIP per supportarci, ve l'ho già detto, contattateci. Passiamo alle free pick, come detto abbiamo aperto l'anno di Premier non benissimo, abbiamo preso la giocata a stake più alto ma abbiamo chiuso in negativo per colpa dell'over non uscito a Southampton e del bone mount che ha perso nettamente in caso degli Hammers. Oggi abbiamo studiato altre due giocate, le ha studiato il nostro Zanardi, da quando ha iniziato a dare le pick sul podcast ne ha prese 21, ne ha sbagliate solo 4 per un più 32,10 unità di profitto su 56 unità investite, parliamo di un ROI superiore al 57%. Nella pochezza del programma quotidiano Zanardi ha comunque trovato due giocate in doppia, la prima è sul calcio inglese, Liverpool-Sheffield United è il vittorio del Liverpool a cui abbiniamo Swansea-Charlton vittoria dello Swansea, quindi vittoria per entrambe le squadre di casa a 2-0-5 stake 2. Per quanto riguarda il Liverpool 50 partite casalinghe da imbattuti in Premier League per il Liverpool, i Reds arrivano inoltre da una sequenza di 14 vittorie consecutive in campionato contro squadre neopromosse, è vero che lo Sheffield da neopromosse sta giocando una grande stagione ma oggi a Danfield prendiamo la vittoria del Liverpool e la abbiniamo a quella dello Swansea che ha perso solo una delle ultime 8 sfide contro il Charlton e oggi potrà far valere il fattore campo, quindi un bel raddoppino sul calcio inglese. L'altra giocata studiata da Zanardi, qui andiamo su calcio un po' meno seguito diciamo, almeno da noi, alle nostre longitudini perché parliamo di calcio egiziano e del campionato degli Emirati Arabi. Le nostre selezioni per questa doppia 1-82, anche qui stake 2, sono Zamalek-Aswan vittoria dello Zamalek e poi siamo andati con Al-Wazl contro Bani-Yas 1-X per la squadra di casa. Allora iniziamo dallo Zamalek in Egitto, la squadra di casa è al settimo posto anche se non vince da tre turni, in casa la prendiamo vincente contro l'Aswan penultima, non ha mai raccolto i tre punti in trasferta in questa stagione, occasione da non perdere per i padroni di casa. Aggiungiamo l'1-X dell'Al-Wazl per quanto riguarda il campionato degli Emirati Arabi, secondo noi l'Al-Wazl non perderà in casa contro il Bani-Yas che è reduce da due sconfitte e a novembre ha perso 2-0 qui allo Zabel Stadium. Io sono arrivato in fondo anche oggi, vi torno ad augurare un buon inizio di 2020, noi ci ritroviamo domani con una nuova puntata del Bet Italia Web Daily Show, l'ultima della settimana, come detto ci saranno i soliti studi per il weekend con tutti i migliori tutti i migliori pronostici per quanto riguarda i principali campionati di calcio in Italia e in Europa, mentre per quanto riguarda Sport USA News & Tips siamo ancora fermi, torneremo dalla prossima settimana, ma come avete visto stiamo integrando alcune notizie di sport americani direttamente nella nostra rubrica del mezzogiorno. Come detto io vi ringrazio, vi saluto, fate buone giocate e puntate sempre con la testa, ciao!